mi faccio faccio puzza buonasera a tutti e benvenuti bentornati in un nuovissimo video su minecraft no quella è la scoperta di minecraft che è un'altra cosa che abbiamo cagato ah vabbè comunque quella è un'altra storia siamo qui oggi cosa vogliamo fare scusa signora signorina arcera ma per che io devo lavorare così no come oggi proveremo un command block un command block è molto bellino sperando che funzioni in multiplayer io ci spero tantissimo io ci spero tantissimo io ho cagato un video ecco mi ho sprecato tempo comunque se volete farlo questi sono i comandi che volete fare ovvero givarvi due command block cioè fare giv il vostro nome command block e non devi se 17 proprio il vostro nome il vostro nome ovviamente vabbè basta fare anche uno l'importante è ma mettilo qua mettilo qua dovini il paisaggio ah no io allora command block poi la pagina è in descrizione no vabbè so io so io tranquilla tranquilla io non lo so ovvero allora fammi prendere anche una leva perché sennò qui non c'era leviamo e ma che cazzo ti porto da scema con quel link è in descrizione prendete il primo codice la leva lo copiate qui dentro guardate che codice lunghissimo e ok attiviamo il primo codice guardate che macello wow e questo è il primo pezzo perché è un codice molto lungo si prende il secondo codice command su su lo posso mettere anche sopra vicino è completamente indifferente basta che comunque non sia troppo distante copio ma mettilo sopra che è più carino me l'ho messo lì e secondo command block boom yeee si il cartello è leggermente bugato te l'avevo detto di metterlo si bisogna metterlo vicino momentino che sistemo tutto il pastrocchio ok dopo averla sistemata per bene devo essere sicuro è stato un lavoro facile perché è una cazzata riproviamo stavolta diventata tac ok stavolta va oh vedi con le buone maniere quindi te l'avevo detto va sopra non va io ho capito ma allora adesso devi premere qui si deve premere qui se si tira e bisogna trovarsi bisogna trovare allora un totem cerchiamo un totem totem eccolo qua dato lei parla io sto cazzeggiando col villager vai una jack lantern ok si una jack lantern è qua dov'è? il totem che dovrebbe essere ma il totem ce l'ho già io fai il jack lantern devo farlo io devo farlo vedere le persone devo farlo vedere su non mi fai è un brick block madonna oggi esatto brick cop eccolo qua ora cosa succede per terra? se butto totem jack lantern dov'è la jack lantern è lì non la vedo mi sembra la visuale e questo ecco qui l'uovo il micro house infestata la micro casa infestata dove la piazziamo? aspetta io ci prendo anche questo blocco qui di micelio che ci sta benissimo voglio dire qua vicino al villaggio di villager la casa in mezzo al villaggio di villager qui bella e scena proprio spettacolare e la cascetta sopra pum ho appena visto ho visto un villager l'hai visto? un villager si guardi i fantasmi oddio i fantasmi guardi che carini aumenta il suono aspetta guarda che si sentono tanto? mi hanno detto c'è scritto che bisogna aumentare il suono metto anche la musica ho aumentato tutto è a 60% oddio senti di pipistrelli sperando che vada è troppo al 60% comunque vabbè massimo masciordirò no perché poi si sente troppo va va che da me allora siete pronti ragazzi allora da quel che c'ho bisogna bisogna tuffarsi dentro aspetta fammi tagliare anche l'uovo e non riesco a mettermi in survival game o zero? ah mica lagga eh ti ho detto che lagga oddio paura è crashato pum 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 eccoci eccomi precisiamo eccomi di nuovo ragazzi nel comando che stavo facendo per voi è poco fa in realtà quel pezzo di video potrebbe essere leggermente antiquato tra virgolette sì vabbè di qualche giorno eh perché avete visto anche voi che il server non l'ha retto allora il pezzo del video non lo voglio buttare via perché mi è piaciuto troppo come abbiamo fatto tutto quanto e allora ho deciso di farlo da solo non c'è asenca vedete non c'è sono in un single player che almeno qui regge un command block lo sapevo che non reggeva ho voluto tentare e chi se ne frega ho ricreato la macchina e mi muovo tutti i pezzi quindi rilancio la jack o lantern il brick e il totem ed eccolo di nuovo qui minchia si sente già il frizzino fammi aumentare un po' gli fps perché si si minchia se tira oh minchia se tira speriamo bene allora faccio piazza piazza oh si era fissa un brutto signore scusi brutto signore non so se ma mi mi ha salvazzato troppo madonna ok perfetto ora va benissimo ok come avevo pronunciato l'altra volta mettiamoci bene la roba qua non ce l'ho sotto mano tec anzi le miele le metto proprio le metto qua ok pronti dentro il castello oh non l'ho mai visto questo comando che figata la porta si apre tipo portare del lente che figata però le miele mi danno in culo quindi facciamo così giù cos'è stato ragazzi basta allora basta basta non disturbate i bambini che dormono allora devo tanto mi arrivano gli sms arrivano gli sms arrivo gli sms ma i fantasmi li devo ammazzare no non mi li fanno colpire quindi sti cavoli non devo ammazzare nessuno basta sti cavoli ho detto oh fa paura la prima volta mi scusi signore proprietario dai rumori credo che ne vada a fuoco casa non so se le da problemi vabbè no no allora io ci dobbiamo coprirci perché lei non ha capito non ha capito niente ma stia fermo stia fermo madonna mi fa frizzare il gioco ho sto scheletro ma il giaro ma io sono rallentato no c'è che si è rallentato ma sono un po' rallentato in effetti ah ma forse c'è il ghiaccio questo vediamo qua cosa c'è qua c'è un bidone è un cesso vabbè chi se ne frega proviamo a andare a uscire ok penso di dover guardare tutte ste prigioni guardiamo andiamo un po' c'è il pipi strano strano aah cos'è porca di quella migliacca chiudi 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 ciao che era quella roba a parte che ho trovato cos'è proximity pumpkin che non so cosa sono sti ma che to burdel ma che se uso un ovo che oh ho capito È una zucca in caso per illuminare tutta la zona Se che Certo, certo Sì, sì, io l'apro sta porta Sì, sì, ma io l'apro davvero sti cazzi Io l'apro davvero sti cazzi La troppa Sti cazzi, ciao Ok, signore Le va a fuoco l'appartamento Vorrei dire Le va a fuoco l'appartamento Vorrei dire Ce l'ha toccata nulla Ce l'ha toccata tanto fuoco tutto Cazzo Spero che fosse programmato Oh, chi è? Ma questo è l'inferno, non è una casa È l'inferno Oh Vabbè, prendo la cesta Credo che mi debba sbrigare Ah, sta Le va a pro un paio Vabbè, non c'è niente dei modi Che qui vai, ah, a fuoco tutto Devo sbrigare, a fuoco tutto Due porte Ma porca Ma porca, ma porca Allora, mettiamo un'altra zucca qua Questa Una canna Eh, per evocare un tuono Uuuuuh No, no, carino Cioè, ma qui va a fuoco No, 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 no Con calma Con molta Moltissima No, 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 no Non voglio morire No, 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 no Spegniti Ok, grazie Eh, non vedo altre cose No, 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 no Devo scappare, devo scappare Eh, credo che non doveva andare a finire Credo che non do- Basta Penso che non doveva andare a finire Ah, no, c'era lava sotto Ah, no, 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 sono morto Sono morto, sono morto tantissimo Sono morto tantissimo Sono morto Ma porca di que- È vero, non mi ero settato lo spawn del mondo Ok, dov'è che avevo la cosa? Ah, è là, là Vedo la macchina Vedo la macchina Vedo che avevo C'è la spinning gola Eccola qua, la macchina Bambini, entra È andato a fuoco Tutto No, lutto 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 Ho preso Ho perso anche la canna No, ho perso la canna Ma l'affangiro Forse no A vedere Versa Eh, ha preso fuoco Ma porca miseria Ci va Eh, sì Eh, ma certo, certo Avete ragione voi Vabbè Ma era normale che andasse a fuoco tutto Ma penso che fosse tutto calcolato, eh Vorrei dire Vedere qua c'è qualcosa No, ok Tutto fatto con Tutto tappato Ok Uscito C***o c***o di merda Ci può rompere? No Ma non ho visto quella canna Sinceramente Aspetta un attimo Rifaccio il macchino Rifaccio un attimo il giro Voglio almeno farvi vedere Che cavolo era quella canna lì Canna di merda Allora Questo è carino Allora devo prendere Il To To Tornata se frizza Che dai rumori Comunque Allora che so io La casa Spawna sotto Che Spawna sotto Non spawna Chissà in qualche altra dimensione No Spawna sotto Quindi se lo si fa in un super piatto Si finisce Fuori dal mondo Lo so perché L'ho provato Sulla mia pelle Ok Ritorniamo qua Che tipo qui Lancio questo Questo e questo Rifaccio l'uovo La ricreo Spawna l'uomo brutto Torno giù Stavolta La faccio in Creativa Non perché Volevo riprendermi Questa Infatti guardate Mo se Ma che c'è Un secondo piano A presto Ehm Vi faccio vedere Guardate Se io vado Verso l'alto Vedete Spawna esattamente Sotto Beh proprio Una cosa Che nasce sotto No Se vabbè Non è Va Ma Questa qua Me la Me la Me la Sposo Questa canna Da pesca Qua Ma veramente Ma Tipo si consuma Survival Fa provare Ma si consuma No Vabbè No Bellissimo Bell Se t'ha roccata La canna Se t'ha roccata La canna Mi scusi Ah no Ok Senti che c'è tipo Un tempo Di Di ricarica Vabbè Sti grandissimi Cazzi No Ma posso farlo Anche questo No È una figata Con questo Mi piace Mi piace Poi evocare Delle zucche Portati Bene ragazzi Spero che il command block Vi possa essere piaciuto Scusate se l'abbè dovuto Finire da solo Ma non c'era possibilità Di farlo Come avevamo iniziato Quindi mi raccomando Lasciate il pollice Se il video Su questo video Non ho detto Il titolo È perfetto Epic moment Proprio Ragazzi Lasciate il pollice Se il video Ditemi se volete Altri command block Come aveva fatto Fino ad adesso Un'olipicità Un'olipicità Si sono creati Dei pic zombie Ah è vero Se il fulme Ne colpisce un maiale Diventa un pic zombie Non lo sapevate Ve l'ho insegnato io Quindi Ascoltate il video Commentatelo Condividete Dunque Anche accesso Mi raccomando E niente Per momento Posso dire Che è Finita Della casa Stregata Un po' Rompe leggermente Le palle Però eh Basta Le ha proprio Sbriciolate Non lo sapevate un'olipicità Non lo sapevate un'olipicità Non lo sapevate un'olipicità Non lo sapevate un'olipicità